Non servono tante parole, bastano poche immagini, queste, per dare voce all'ennesimo atto di inciviltà registrato negli ultimi giorni a Bassano. Qui siamo nella frazione di San Michele e il piazzale che vedete è quello antistante, la chiesa. Da un paio di giorni a terra sono state abbandonate decine di cassette, alcune di plastica, altre di legno, contenenti vecchie arance. C'è persino un pallet che con molta probabilità conteneva le casse durante il viaggio. Un secondo bancale lo troviamo oltre alla recinzione in un terreno privato dove sono finite altre cassette ed altri resti di frutta. A segnalarci la situazione sono stati alcuni residenti indignati da queste scene. Come sia finito qui questo materiale è da capire che si tratti di un carico accidentalmente caduto o con più probabilità di merce abbandonata senza alcun scrupolo non sta a noi stabilirlo. Di certo un pessimo biglietto da visita per chi raggiunge la città scendendo dall'altopiano.